Si torna a parlare di emergenza sicurezza a Pescara dopo gli ultimi episodi di cronaca, tra cui la rapina a mano armata effettuata all'indomani delle festività di Natale ai danni della complicata officina in pieno centro e in pieno giorno. La preoccupazione di cittadini e commercianti è evidente e accogliere i segnali di allarme e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che denuncia la carenza di sicurezza nella zona della stazione ferroviaria centrale di Pescara. Sì, qui questa zona dove insistiamo noi in questo momento è diventato un far west, soprattutto la sera dopo le 18 quando scende il buio l'area di Risulta è invasa da balordi, delinquenti, pregiudicati, criminali che si nascondono dietro le macchine in questo parcheggio immenso, chiedono soldi e se non gli dai soldi ti aggrediscono. Ci sono stati diversi tentativi di stupro, c'è stato uno stupro anche consumato, una zona poco illuminata, una zona non controllata da un sistema efficiente di videosorveglianza, una zona non controllata da pattuglie fisse o da ronte di polizia. Noi quindi chiediamo, ma non solo in questa zona, in tutte le arterie del centro dove i commercianti hanno paura, chiediamo un'intensificazione dei sistemi di videosorveglianza, quindi il cosiddetto occhio elettronico deve essere millimetrico e capillare in ogni luogo, non solo, ci vorrebbero delle unità di polizia municipale in supporto alla polizia di Stato che svolgano un controllo del territorio e anche ronde appiedate che possono controllare millimetricamente il territorio, far sentire la loro presenza e garantire soprattutto la sicurezza dei cittadini anche con la deterrenza. Io ritengo che non tutto il problema, ma gran parte di questi pregiudicati provengano anche dalle periferie. Io chiedo con forza che si continui nell'opera di bonifica delle periferie, dove i criminali pluri pregiudicati occupano abusivamente le case, quando va bene pagano 10 euro d'affitto, guadagnano 500 euro al giorno con lo spaccio di droga, hanno macchine parcheggiate sotto di 70-80 mila euro, queste persone vanno inseguite, vanno stanate dalle case, vanno sbattute fuori senza nessuna pietà, perché poi quelle persone che utilizzano gli alloggi popolari come quartier generale vengono in centro e a fare, a delinquere e a intensificare già l'alta criminalità presente e l'emergenza sicurezza che abbiamo in centro.